Ma che bontà i gamberi in frigitrice ad aria! Sono croccanti fuori, ma morbidi e succosi al suo interno. Puliti i gamberi, eliminate la testa e il carapace, preservando però la codina che renderà i gamberi più belli da presentare. Incidete sul dorso e togliete il filo intestinale. Versate nel piatto il pane grattugiato, aggiungete un trito di aglio e prezzemolo, unite anche la buccia grattugiata del limone, un pizzico di sale, di pepe e un goccio d'olio. Mescolate il tutto fino ad ottenere un composto sabbioso ed umido. Passate i gamberi nel pane grattugiato da ambo i lati e infilatele in uno stecchino per spiedini, io ne ho messi tre per ogni spiedino. Passate i gamberi nel pane grattugiato, aggiungete un cappetto di gattuga e di rai. Passate i gamberi nel pane grattugiato, aggiungete un pollo e gli diametri. Sistematele nel cestello della frigitrice ad aria Spruzzate sui gamberi dell'olio e fateli cuocere per 8 minuti a 200 gradi A metà cottura aprite il cestello e girate gli spirini Quando i gamberi saranno cotti toglieteli dal cestello Serviteli subito ben caldi e magari aggiungendo delle fettine di limone Sono facili, sono veloci e sono gustosissimi E se l'ho fatto io lo puoi fare anche tu